Padova, siamo tornati! Bravi! Bravi! Due, uno, è partita! Partita la mezza di Padova! La mezza maratona più veloce d'Italia è stata a corsa quest'oggi! Qui a Padova siamo a stile che femminile, poi da 10 km! La mezza maratona più veloce d'Italia è stata a corsa quest'oggi, poi in tanti, in tanti, si ne ha ancora difficoltà del tragitto! La mezza maratona più veloce d'Italia è stata a corsa quest'oggi, poi in tanti, 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 in tanti! La mezza maratona più veloce d'Italia è stata a corsa quest'oggi, poi in tanti, 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 in tanti! Grazie! 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 Grazie!